Comunque Vecna fa sboccare tutti i suoi quattro ultimi fanno vomitare Da me il bancario non dura un cazzo perché deve essere bravo a usarlo Asics Se giochi bene alla mano non hanno counterplay Pipistrello, pipistrullo, pipistrello, pipistrullo, dove sono i sopravvissuti? Pipistrullo Ed ecco perché non si entra nel locker Utile e value e colonie? Si Dracola più forte a mani bassi di Westra e piramide? Si Com'è che l'ho one shottata? No non dovrebbe funzionare vulnerabilità Anche se è vulnerabile A parte che non ho perk per vulnerabilità C'è un bug che funziona vulnerabilità con Con il Con Dracula Si che era full Per questo sono rimasto un attimo Sconcertato L'hanno fatta una clip? L'hanno già fatta No sono confusissimo Ho scoperto un bug con uno degli addon Voglio vedere che poi che perk c'ha però Ciao Larry Buonasera caro Tipo per qualche ragione Oltre che aumentare le sfere odorose Fa one shottare i surf con la sfera di fuoco L'unico cosa è che Se per qualche ragione La colonna di fuoco l'hai hitata due volte E' l'unica cosa che mi viene in mente Adesso no Boh Poi anche pensavo fosse tirato le sue Pensavo fosse tirato le sue No Che la gente corre del te No questi si stanno arrendendo C'è già il C'è già il La clip se vuoi Feldrin O aveva lei qualcosa O per qualche arcaica ragione Le colonne di fuoco funzionano Sulla vulnerabilità E' però è strano Che è abitato due volte Capite Quello è il peculiare Petta il dog Cioè ero qua Boh Vado a capire Tu l'hai personalizzata No Non c'ho voglia Fuck Davvero non l'ho hittata lì E qua non l'ho one shotata Boh Va bene così I guess Non mi lamento Perché Darry mi ha invitato A giocare a Little Company Signor Darry Non vede che sono in stream Qui neanche è passato adesso Non faccio domande Il tipo bello Darry Guardalo qua Dai si lascia andare Signorina No Poi lo dilupo se quando fa le carezze boobie Il chiedere sarà figo, il chiedere è molto bello, mi piace tanto Sì, devo già lasciare la botta, altrimenti l'avrei ucciso due ore prima Non ho capito perché si sono una resistant Ah, Fang Ma Fang non aveva neanche one shot È uscito il giorno da clip Volevo mandarla Ma cazzo si fa a scrivere senza aggiungere gli amici Vabbè, mi chiedo l'amicizia Sì, sì, l'ho già presa, l'ho già presa Fate rivedere la clip, adesso la riguardiamo assieme È come se passa in mezzo ai due e se li prende entrambi Mi sa di sì, ma non credo sia possibile essere colpiti da due fiamme E poi in più, tra l'altro, ci è passato in mezzo mentre stava uscendo Cheater, la verità, esce fuori Le fiamme si fanno una volta Eh, ma non è anche piramide, teoricamente Però piramide non può hittare due persone insieme In più, di solito, hai un frame di invulnerabilità Mentre... Mentre lo fai Mentre le 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 fai